Ciao ragazzi, The Day After, Juventus Genoa 2-0 partita, insomma dai tanti spunti, dobbiamo analizzare diverse cose, cosa è andato bene, che cosa è andato male, perché inevitabilmente 27 tiri, 12 in porta, 2 gol, insomma viste anche le occasioni da gol che abbiamo creato con un Sirigu che lo abbiamo reso quasi l'eroe della serata, anche non si poteva fare molto molto di più sotto porta e questo credo che sia chiaro per tutti, per cui analizziamo un po' che cosa è andato bene, che cosa è andato invece un pelo peggio. Prima di iniziare ragazzi vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, perché da qui in avanti ci saranno anche video molto interessanti, collaborazioni, quindi ragazzi da cosa nasce cosa, quindi mi raccomando continuate a seguirmi qua su questo canale e scaricate la buon football, trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. E vi dico anche ragazzi mettete like, mettete dislike, mettete quel che vi pare, commentate soprattutto interagite nei video perché questa è la spinta che potete dare affinché un canale vada bene, col commento, anche con la critica, non per forza con la sviolinata al sottoscritto, ci mancherebbe altro, con il like, con il dislike, insomma avete diversi strumenti. Ora passiamo all'analisi della partita, è stata una partita positiva, è stata una prestazione positiva, c'è poco da girarci attorno, c'è da migliorare? Uff, a voglia! Dove c'è da migliorare? Beh, sicuramente c'è da affinare un pelo la fase offensiva, è un problema che ci trasciniamo, lo dicono comunque anche i numeri, che siamo insomma a tredicesimo, dodicesimo attacco della serie A per cui bisogna concretizzare un pelo di più, questo è chiaro, se vogliamo ambire almeno ad arrivare nelle prime quattro posizioni dobbiamo cercare di concretizzare e migliorare quello che lo scorre. In questa partita in realtà rispetto ad altre gare abbiamo creato tanto, nelle altre partite si creava anche poco, 2-3 occasioni e non si segnava, qua invece abbiamo fatto 27 tiri, ripeto, 12 tiri in porta e 2 gol. Potevamo fare qualcosina in più, perché ripeto, le occasioni grosse le abbiamo avute e non le abbiamo sfruttate, ricordo nel finale di primo tempo quel contropiede con Dybala che dà la palla morata e Sirigu che interviene palla a terra. Un altro errorino così simile, tiro di Dybala parato a terra di Sirigu con un Bentancur che non si leva dal Kaiser, anzi quasi impedisce a Dybala di arrivare tranquillamente sulla palla e decidere dove infilarla. Insomma, queste cose dobbiamo migliorarle, però passiamo alle cose positive e poi arriviamo a quelle negative. Le cose positive sono le seguenti, sicuramente la coerenza tattica. Guardate, Bucciantini per esempio nel club, ha ripreso questo episodio, però parlando della Fiorentina, ovvero ha detto la Fiorentina con italiano, con questo modulo, piano piano, a furia di andare avanti, sa poi dove deve migliorare dei piedini in campo, sa come rendere fluida la manovra, sa che se venderà un domani Vlaovic, poi arriverà al punto che c'è uno saturato della squadra ben definita e poi si sa quali sono i punti deboli e si agisce là sul mercato in maniera chirurgica. Ecco, la coerenza tattica che chiedeva l'Allegrie utilizza un modulo, cerca di oliarlo nei meccanismi, nei movimenti, di rendere questa squadra quanto più competitiva per le possibilità che ha ovviamente. E poi, da lì in poi, sarà anche più semplice il lavoro del direttore sportivo e dello scout andare lì ad osservare dei profili che sono coerenti con quell'idea e che possono dare una mano a fare quel salto in più di qualità. Ovvero, adesso, parlando dell'organizzazione che attualmente è la Juventus, che è un 4-2-3-1 che mi pare che sia il modo ideale per fare coesistere tutti i giocatori in un unico modulo. Io avevo previsto un 4-3-3 addirittura, ma mi sta bene anche il 4-2-3-1 perché in realtà che cosa fai con il 4-2-3-1? Vai a levare la presenza di un centrocampista che poi non si sa se è un modulo d'emergenza perché manca McKennie. Attenzione perché McKennie è uno che ti può far fare il 4-3-3 poi in una situazione simile. Però ci arriviamo. Questo 4-2-3-1 praticamente consente alla Juventus di far giocare meno centrocampisti possibili perché ne ha uno di qualità e uno di quantità. Oggi, cioè ieri, hanno giocato Bentancur di quantità e Locatelli sulla qualità. Poi arriviamo alla prestazione di Locatelli perché merita una menzione particolare, così come quella di Pellegrini. In difesa i ruoli sono abbastanza chiari, cioè non c'è nulla da reinventarsi. Lì, dietro la punta, c'è ovviamente Di Bala, due ali che fanno le ali e non fanno librido, stupido, con compiti strani. E la squadra rende meglio perché tutti i giocatori fanno delle cose che, insomma, è nelle loro corde. Cioè, fanno delle cose facili che hanno. Cioè, Bernardeschi fa l'esterno e ha sempre fatto l'esterno. Kuluseschi fa l'esterno e ha sempre fatto l'esterno. Di Bala, come seconda punta, lo ha fatto miliardi di volte anche nel 4-2-3-1. La difesa fa la difesa. Locatelli nel 4-2-3-1 ci giocava e ci sguazzava a meraviglia col Sassuolo. Per cui, le cose vedete che alla fine tornano. Tant'è vero che la manovra è stata molto più fluida. Nell'uscita non è che abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo fatto cose semplici. Insomma, la difesa che gioca abbastanza bene con un Pellegrini in grande forma. Ripeto, io non l'avrei levato subito, però si è impaurito a Allegri. Dovrebbe levarsi un pelo di paura, anche se, vi dico, una munizione di Pellegrini rimediata nel secondo tempo avrebbe stravolto sicuramente gli equilibri della partita. Per cui, ci sta a essere un pelo conservativi quando l'avversario è così di bassa lega. Perché in questo caso il Genoa, falcidato dagli infortuni e dalle assenze, insomma, Shevchenko era nella cacca più totale, ecco. Quindi Allegri ne ha approfittato in questo cambio conservativo perché comunque il gap che c'era tra le due squadre glielo consentiva. Però è un Pellegrini che mi ha dato l'idea che la Juventus è un terzino rispetto ad Alexandro. Non che Alexandro sia entrato male in partita, però con Pellegrini avevi sempre la percezione di pericolosità, di uno che comunque ti affonda, che ti fa il movimento, che ti porta via l'uomo. Perché ve l'ho detto sempre, il calcio è un gioco di tempo e spazio. Tu fai il movimento verso quello spazio, col tempo giusto porti via un uomo e crei una situazione interessante magari per Bernardeschi, si innescano altre situazioni. Ecco, Pellegrini ha dato quel senso di pericolosità, quindi a me è piaciuto particolarmente. Poi, analizzando la prestazione di Locatelli, Locatelli è uno che si è mosso tanto, c'era in tutto il campo, svariava da destra a sinistra. È stato molto più presente nella parte sinistra, anche le hitmap che ho visto davano una bella concentrazione di Locatelli insomma nella nostra fascia sinistra, molto basso, sempre di impostazione, non si è presentato tanto in avanti, però insomma è stata una squadra ordinata che ha reso la manovra fluida e a me è piaciuto questo. Porta a casa questo, la coerenza tattica e il fatto che si possa migliorare questo modulo, insomma col tempo, si può migliorare tanto, tanto, soprattutto nella produzione offensiva. Produzione offensiva a tasto dolente, Moratta non è sereno. Ken non ti sa fare quei tipi di movimenti che sa fare Moratta, perché magari ha più cattiveria, magari anche sottoporta il buon Moise, però insomma non riesce a trovarsi nelle stesse situazioni in cui riesce a trovarsi Moratta. Facessimo una fusione stile Dragon Ball probabilmente uscirebbe già un qualcosa di interessante. Ovviamente Moratta è un giocatore che oggi doveva sicuramente fare molto molto di più, l'ho visto parecchio nervoso, infatti è stato sostituito giustamente da Allegri, perché lì l'avrei tirato fuori anch'io e vi dico là con un attaccante come Vlaovic oggi ne facevamo 6 o 7, tranquillamente ragazzi, ne facevamo 6 o 7. Moratta deve ritrovare stabilità mentale, stabilità mentale perché il momento è molto delicato, sicuramente le situazioni che stanno succedendo anche alla società vanno a minare quella che è la sua potenziale permanenza alla Juve anche all'anno ventura, quindi il ragazzo non è sereno, è sempre in discussione, è sempre in discussione e questa incertezza secondo me pesa tanto anche sulle sue performance, perché è inevitabile, quando sei precario a lavoro anche la performance lavorativa ne risente, perché tu lavori non tranquillo e quindi io il ragazzo lo capisco a differenza da altri, facile dire prendiamo Vlaovic, beh se prendi Vlaovic lo prendi a titolo definitivo, gli dai quel tot di stipendio, lui si mette l'anima in pace, si sbatte e rende. Moratta è uno stagista precario attualmente alla Juventus per cui è normale che non sentendosi a posto con magari delle garanzie per il riscatto scricchiala un pochettino la sua serenità e quindi si manifesta ovviamente nelle performance che vediamo in partita. Ragazzi va tranquillizzato questo ragazzo, a questo punto bisognerebbe utilizzare anche magari più Moise in certe situazioni, magari fare entrare Moratta a partita in corso per spaccare la partita, perché secondo me da quel punto di vista lui riesce a dimagazzinare più forza positiva, entra per spostare, entra per determinare e magari gli serve un pelo più di panchina, perché ragazzi non per cattiveria eccetera, ma le sue performance non sono di buon livello ad oggi. Poi può avere tante attenuanti il ragazzo e le capisco anche, però c'è da migliorare la davanti, dobbiamo fare gol perché siamo troppo indietro da questo punto di vista. Poi il gol di Panetta Quadrato, un gol strepitoso e come ha detto Di Balla, dobbiamo trovare la serenità, la voglia di disegnare. Di Balla ragazzi, cosa vi volete dire a Di Balla? Di Balla ha giocato bene, ha fatto anche un bel gol. È stata una prestazione, ripeto, positiva, mi porto a casa la coerenza tattica di Allegri nel riprovare questo modulo, la manovra un pelo più fluida, questo Locatelli, questo Pellegrini, sono cose che mi porto a casa da questa partita. Non mi porto a casa ovviamente il livello di concretezza sottoporta, ovvero il fatto che la Juventus non converta tutte quelle occasioni in gol, questa è una cosa che non mi porta a casa, è una cosa che Allegri deve migliorare. Intanto certe dinamiche là davanti si sono viste molto molto di più, scambi anche nelle triangolazioni facili, le al limite dell'aria, molto più movimento senza palla. Bene così, mi piace il fatto che anche Allegri mi dà l'idea di un allenatore che non sta più pensando dall'oggi al domani, da oggi a domani c'è questa partita quindi la prepariamo in questo modo, ma mi sta dando l'idea di uno che vuole creare un'ossatura e la vuole portare avanti. Io spero di non essere smentito già nelle prossime partite perché rimarrei piuttosto deluso. Secondo me questa è la strada, al di là del fatto che questa squadra sia prefettibile con tanti limiti e che probabilmente non sarà mai competitiva come l'Inter, come altre squadre. Benissimo, mi sta bene. Però continuare su questa strada ti consente, ripeto, di lavorare bene dal punto di vista del mercato, delle scelte e di fare delle cose fatte bene con la testa e anche a porre dei correttivi dove c'è qualcosa che non va. Se invece andiamo oggi così, domani cosa? Insomma, sparando sul mucchio ragazzi tante soluzioni, non si riesce a beccare quella giusta. Partiamo da qualcosa di concreto, cioè per le caratteristiche che abbiamo il centrocampo è il reparto più deficitario. Giochiamo solo con due centrocampisti e cerchiamo di dare delle ali, cerchiamo di giocare un po' più in ampiezza, magari sulle corsie esterne e utilizzando quel poco che di buono abbiamo a centrocampo e valorizzandolo al massimo. Questa deve essere per ora la nostra idea. Poi se c'è da migliorare il centrocampo perché bisogna passare a tre per valorizzare più avanti gli esterni eccetera, a quel punto si prende un altro centrocampista, però capite si parte da un'idea concreta e si arriva a una soluzione. Non si spara sul mucchio con mille moduli, cercando di capire perché poi rischia di compromettere la classifica. Ora dobbiamo fare la rincorsa, mancano tre partite a questo filotto del girone d'andata, cerchiamo di vincerle tutte quante e poi guarderemo la classifica con altri occhi, spero, perché se arrivano tre vittori e secondo me qualcosa là davanti succederà. Poi non è che mi sto illudendo per lo scudetto, ci mancherebbe altro, siamo troppo indietro rispetto alla qualità del gioco del Milan, dell'Inter, dell'Atalanta e del Napoli, siamo ancora troppo indietro, però possiamo, lavorando bene 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 nel tempo, cercare di lottare per almeno la Champions League. È vero vi ho detto quattro squadre che giocano bene, però queste squadre avranno delle problematiche nei prossimi mesi e per cui dobbiamo fare posta piena nel periodo di maggiore difficoltà. C'è la Coppa d'Africa, ci sono tante contingenze per queste squadre, approfittiamole. Dico solo questo. Detto questo, chiuso a finale, stasera altro video probabilmente su una situazione che non vi piacerà tanto, ma che ahimè impatta. A me certe cose dalle orecchie non vanno via, non vanno via, rimbombano nella mia testolina e devo cercare di cacciare fuori qualcosa. Magari ne parlo anche con qualche super esperto di questa cosa e cerchiamo di fare un contenuto per bene. Non vi svelo nulla di, perché prima le cose si fanno con la certezza poi di farle con queste persone e poi ecco ve le svelo. Però un video uscirà tranquilli su questo argomento. Non so se in collaborazione o meno, ma un video uscirà. Detto questo, signori, un abbraccio a voi e sempre fino alla fine. Forza Juve!